Con la solennità della trasfigurazione del Signore si è aperto al Monte Tabor il giubileo per il centenario della Basilica, la cui progettazione iniziò nel 1911 ad opera di Giulio Barluzzi e fu poi ripresa nel 1919 dal fratello Antonio, al quale fu affidata la realizzazione dell'opera che durò dal 1921 al 1924. Nell'introduzione al centenario, Fra Francesco Patton, custodi di Terra Santa ha voluto sottolineare l'elemento principale della Chiesa, di cui lo stesso architetto Barluzzi ha scritto, la luce. La trasfigurazione è esattamente la manifestazione luminosa di Gesù. Quando si racconta la trasfigurazione si dice che il vestito di Gesù diventa bianchissimo, più candido della neve e il suo volto diventa luminoso come il sole, quindi la luce è la caratteristica della trasfigurazione. Questa luce che per un istante brilla davanti agli occhi degli apostoli che così possono non solo intuire ma anche vedere che Gesù è realmente il figlio di Dio e non semplicemente il figlio dell'uomo o l'uomo di Nazareth. E Barluzzi ha voluto ricreare attraverso la luminosità dello spazio architettonico, quindi della basilica, questa idea della luce. Per il Barluzzi l'architettura della Chiesa doveva essere una narrazione capace di imprimere nella mente e nella memoria del pellegrino i misteri della vita di Cristo. La luce, elemento principale della Chiesa, è abbondante dappertutto. Dalle finestre della cripta a quelle superiori, ma anche i mosaici dorati riflettono la luce. Ed è una cosa meravigliosa perché questa basilica è orientata, quindi è collocata sull'asse est-ovest e al mattino si vede la luce che entra dalla cripta con quella vetrata dei pavoni. Alla sera, da questa parte, la luce entra dal portone e va a colpire le tessere del mosaico dorato ed ha un effetto di luminosità straordinaria che mette anche noi, in qualche modo, grazie all'arte, mette anche noi davanti a questo mistero della trasfigurazione. Una speciale ricorrenza che coincide con quella della Basilica del Gezzemani, che consente ai fedeli di ottenere l'indulgenza attraverso il pellegrinaggio ai santuari di Terra Santa, in modo particolare al Tabor e al Gezzemani. Già ci sono le indulgenze comuni a tutti i santuari della Terra Santa che abbiamo noi in custodia, ma abbiamo particolarmente quest'anno, che iniziamo proprio oggi l'anno giubilare, i cento anni della dedicazione della Basilica della trasfigurazione, allora chiediamo un po' come in tutti i santuari in tutto il mondo, cioè che chi viene sia nella disposizione di poter raccogliere questo dono, questa grazia dell'indulgenza. Per ricevere le indulgenze per sé e per i defunti, il fedele deve recarsi in un santuario, pregare secondo le intenzioni del Santo Padre, essere in uno stato di grazia attraverso il sacramento della riconciliazione e partecipare all'Eucaristia. Anche un gruppo di 53 pellegrini dalla Romania, guidate da Padre Cristian Vaccaro, assistente spirituale della comunità romena in Terra Santa, era presente all'apertura dell'anno giubilare. Questa è la seconda volta che vengo qui, è molto bello. Siamo qui sulle orme dei passi del nostro Salvatore, Gesù Cristo. Questa è davvero un'esperienza forte e attraente, se possiamo dire così. Su questa terra hanno camminato San Pietro e gli altri discepoli di Gesù. Per noi è un grande onore poter venire qui e vedere tutto questo. I sacerdoti, i frati, persino il panorama, invitano ad una vita più spirituale. Dobbiamo avere più fede e provare ad essere sempre più buoni per creare un mondo migliore. Sono per la prima volta arrivata qui, vi mandiamo un saluto a tutti. Siamo contenti di vedere i posti dove Gesù ha cominciato la nostra salvezza. Benissimo, le persone brave, sorridenti, molto amabili, amichevoli. Anche la comunità cristiana locale era presente. Fra Ibrahima Sabah, parroco latino di Nazareth, ha sottolineato durante la sua amelia che la trasfigurazione è stato un momento per rafforzare la fede degli apostoli davanti allo scandalo della croce che si stava per compiere. Anche la vita di ogni cristiano ha continuato, ha bisogno della manifestazione di Dio tramite la sua parola e i sacramenti. Dopo la Santa Messa, tutti si sono recati in processione accompagnati dal gruppo scout fino alla cappella Descendentibus, luogo dalla quale Gesù ordinò ai discepoli di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Grazie a tutti.